Penso che sia una cosa corretta. Come mai? Beh, ci tutela probabilmente, una parziale tutela ovviamente. Io rispetto le idee di tutti, io l'ho fatto perché mi sentivo di farlo. Non ti dico se è giusto o no, per me per il momento è giusto. Forse sul privato potrebbe anche essere una scelta, come dire, non obbligatoria. Nel posto pubblico, purtroppo il pubblico deve stare ancora un po' sotto le disposizioni legislative, per cui non saprei. Secondo me chi ha contatto con la gente, sì. Chi lavora a contatto col pubblico. Io penso che se ci offre dei margini di sicurezza maggiori sia utile adottarlo. Io non lo so, sarebbe meglio di sì per tutti. Io sono favorevole però, rispetto anche a chi è contrario. Io sono favorevole perché sono titolare d'azienda, quindi sono cosciente dei problemi che possono sorgere nel momento in cui viene responsabilizzato un datore di lavoro in questo senso, quindi per me sì. Penserei di sì, anche per quelli che non sono vaccinati potrebbero un attimo inarsi un po' più tranquilli. Grazie. 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 Grazie.